Il dialogo creativo, la rassegna che promuove una riflessione sulle grandi trasformazioni portate dal fenomeno migratorio, si terrà dal 15 febbraio al 1 marzo nella Biblioteca Civica di Piazza 20 Settembre. Gli incontri propongono riflessioni e dialoghi tra persone di diversa provenienza, una situazione che coinvolge Pordenone dove vive una variegata comunità straniera che costituisce il 16% della popolazione residente. È un appuntamento importante per la città che arricchisce il nostro panorama culturale e che ha l'obiettivo di coinvolgere le nuove culture, le nuove religioni che sono presenti sul territorio della città di Pordenone. E quindi noi abbiamo pensato di organizzare un appuntamento per riflettere su queste nuove culture che soprattutto nelle nuove generazioni rappresentano anche un po' un andare oltre i confini che ci dividono, un oltre un noi e un loro. Il dialogo creativo è promosso dalla Biblioteca Civica di Pordenone con il patorcinio della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'assessorato alla cultura del Comune di Pordenone. Un appuntamento per noi importante che ha avuto già un prologo iniziale tanto a novembre quanto a dicembre con la scoperta della storia della cultura albanese e di quella dell'Ucraina con Natalia Bondarenko. Poi abbiamo avuto il grande incontro con Turam a metà di gennaio e adesso parte questa piccola rassegna che vedrà un po' dibattere su diversi temi. Quindi nel tentativo non di assimilare nessuno ma di aprire un pronte di dialogo che permetta reciproca conoscenza e permetta quindi di approcciarsi con l'altro senza pregiudiziali di nessun genere.